Allora, non siete coglioni come ho detto un po' di anni fa Ci siamo? Allora, siccome non sentivo molto bene adesso la mia voce ho dovuto togliere questa cuffietta Togliere questa cuffietta mi darà un grande vantaggio Io adesso, c'è il nostro grande piagione che suona la chiamata da noi E quindi io posso andare un po' in giro, così almeno mi avvicino Mi metto seduto vicente e se ci arriva il microfono vengo, arrivo Sì, 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 sì Ma lei è quella che non hai la luce Mi fermo per un attimo e mi rendo conto che Ciao a tutti Ciao a tutti te ne vai, non sono quello che vuoi te, non sono né te, non dimenticare, non mi puoi lasciare, ma lei è quella che ci hai, la voce che mi mi guai, mi fermo per un attimo mi rendo conto che oggi e oggi non sono la vita, mi sfuggerò e non mi sai oggi e oggi non sono, te e il tuo tono a piaccia di sé, oggi e oggi non tu non hai di fare, ma chiudere mi continuare, oggi e oggi non sono, te e oggi non sono la pelle e oggi non è, oggi non sono, te e oggi non sono, te e oggi non sono il Sarà il giorno della via Auditore della conciliazione Accendi, accendi, accendi Su, su, accendi, accendi Grazie Grazie Grazie